Guido Piano E' un qualcosa dentro un po' Che mi stai Non so neanche il problema E mi ha compagno Con le prime notti di Guido Piano ieri sera al Modo Jazz Club di Salerno Fabio Concato ha iniziato a raccontare il suo nuovo modo di fare musica mescolando le note jazz con le canzoni popolari che hanno contribuito al suo successo Un gioco di nuove emozioni reso possibile grazie al progetto messo in piedi da Paolo Di Sabatino con il suo Voices Da dove nasce l'idea di dare una nuova voce una voce jazz ai classici della canzone italiana? Ma viene da un amore per i pezzi di Fabio in particolare che ho da sempre e quindi ritrovarmi a suonare questi brani che ascoltavo quando lui li ha incisi e tirava fuori sui dischi è un'emozione molto molto grande Fabio Concato ritorna con il jazz chiamato alle arti della musica grazie al jazz questa esperienza anche attraverso i club come sta andando e quale sarà poi il prossimo progetto ripartendo da Voices Ma il prossimo progetto in realtà faccio un po' fatica adesso anche a immaginarlo come stanno andando queste serate secondo me stanno andando benissimo ci stiamo divertendo come dei matti la gente probabilmente si diverte anche più di noi che è la cosa che a noi preme di più e quindi ecco se dovessi però immaginare una nuova avventura mi piacerebbe che fosse ancora così sarebbe già un grandissimo risultato Ad aprire il concerto di Di Sabatino Concato ieri sono stati gli Logic Trio formazione composta dagli studenti del Conservatorio Giuseppe Martucci di Salerno che hanno proposto 20 minuti di live inserendo anche brani originali